C'è molta confusione tra i termini tolettatura e tosatura di un cane, infatti molto spesso si pensa che tolettare un cane significhi tosarlo, ma nulla è più lontano dalla realtà. Infatti la tolettatura di un cane è la cura e la pulizia del suo mantello e del suo corpo ed esistono vari tipi di pelo ed ognuna ha la sua tolettatura ideale. Invece la tosatura è un tipo di tolettatura ma che si adatta soltanto ad alcuni tipi di pelo, come ad esempio quelli del barbone, e non va invece mai effettuata in altri casi, come per esempio negli spitz, negli aschi, nei cani a pelo duro, come i teriari e i bassotti. Ad ogni modo quando si effettua una tosatura questa non va mai fatta troppo bassa perché espone il cane ad un elevato rischio di salute, come ad esempio scottature o un maggior attacco da parte dei parassiti. Quindi ogni cane ha il suo pelo e ogni pelo la sua tolettatura.